Il problema oggi non è il numero dei contagi da covid-19, è la correttezza civica che deve preoccupare. Oggi soprattutto i giovani devono avere rispetto per i familiari. Lo ha detto il presidente dell'ordine dei medici di Salerno, Giovanni D'Angelo. Bisogna tempestivamente bloccare le catene di trasmissione ed evitare che venga diffuso il virus in ambito familiare, soprattutto tra anziani e malati cronici. Siamo in una fase in cui atteggiamenti messi in essere soprattutto dai giovani durante questo periodo estivo hanno aumentato il numero di contatti e hanno purtroppo diminuito spesso sia il distanziamento sia anche l'uso della mascherina e quindi tutto questo ha chiaramente causato questa problematica. Tra l'altro bisogna tener conto che c'è stato un enorme flusso di persone che chiaramente si è mosso all'interno della nostra provincia e molti di queste persone sono anche persone che venivano da fuori. Per non dire di altri nostri conterranei che sono andati fuori per fare le vacanze in luoghi in cui il contagio era anche particolarmente evidente anche in paesi tipo la Spagna, tipo la Francia o altri, la Croazia. E quando sono rientrati in Italia ovviamente sono tornati non più da soli ma in compagnia del nostro amico virus Covid-19. Un virus che sembra meno aggressivo rispetto al periodo del lockdown? Direi che non è tanto meno aggressivo. Diciamo come è tipico dell'atteggiamento del rapporto chiamiamolo così tra l'uomo malato e il virus si stabilisce una specie di convivenza perché diventa chiaramente c'è una disponibilità a una difesa maggiore da parte del nostro organismo e nello stesso tempo ha una coesistenza con l'ospite non gradito ma purtroppo presente. E questo ha determinato di fatto quelle forme che sono soprattutto forme asintomatiche che spiegano questa strana coesistenza di una forma come di una persona a doppia testa. Da una parte c'è il contagio ma dall'altra per fortuna molte volte non ci sono i sintomi della malattia. Quindi se per malato noi intendiamo nella classica accezione di malattia colui il quale ha una manifestazione del male in questi casi molte volte la manifestazione non è presente e questo spiega l'enorme utilità da una parte dell'uso del classico tampone molecolare in modo da rilevare la possibilità della presenza di malattia ma in maniera sintomatica ma anche di un uso disteso di tipo preventivo che in questo caso diventa marcatore del problema ma anche se lo dice i kit sierologici.